Nel corpo umano ci sono oltre 600 diversi muscoli, ma di cosa sono fatti? Un muscolo è un tessuto formato da cellule specializzate che si allungano o si accorciano quando ricevono stimoli elettrochimici dal sistema nervoso. Il tessuto muscolare estriato è tipico dei muscoli scheletrici e le cellule che lo compongono sono organizzate in lunghe fibre muscolari. Questo tessuto costituisce fino al 42% del peso in un uomo e il 36% in una donna e consente al corpo di muoversi interagendo con l'ambiente esterno. Il tessuto muscolare liscio, invece, è tipico degli organi interni e delle pareti dei vasi sanguigni e, a differenza del muscolo striato scheletrico, è controllato dal sistema nervoso autonomo. I suoi movimenti sono quindi involontari. Il tessuto muscolare cardiaco rappresenta un'eccezione. Di aspetto striato, strutturalmente simile a quello scheletrico, è però regolato in maniera autonoma. Ma come avviene la contrazione? La cellula muscolare è composta da unità contrattili, i sarcomeri, organizzate in fascetti chiamate miofibrille. Ogni sarcomero è attraversato da filamenti proteici di actina e miosina. Utilizzando ATP, la miosina scorre sull'actina accorciando il muscolo. Le fibre muscolari veloci, come quelle di un bodybuilder, ricavano l'ATP principalmente dagli zuccheri e, anche se sprigionano molta forza, i muscoli che le contengono esauriscono l'energia rapidamente. Al contrario, le fibre lente, come quelle utilizzate da un maratoneta, ricavano l'energia sia dagli zuccheri sia dai grassi e sono in grado di sopportare sforzi prolungati. Per mantenere in buona salute il nostro apparato muscolare, è necessaria un'alimentazione con il giusto apporto di proteine, ma è fondamentale anche compiere regolarmente attività fisica.